Anticipazioni, una vita, puntata spagnole, Alodia scopra di essere incinta e lo comunica Bellita. A nulla sono servite le raccomandazioni delle amiche di Soffitta, perché Elodia, come anticipato già dai miei video ragazzi, vivrà un momento di passione con Ignazio e scoprirà dopo un po' di essere rimasta incinta. Così per prima cosa andrà da Bellita, la sua padrona, e gli dirà di aspettare un bambino proprio da sua nipote Ignazio. Bellita, subito, si dimostrerà molto materna e gli darà il suo appoggio. Nel frattempo però il comportamento di Ignazio, dopo aver ottenuto ciò che voleva, sarà completamente diverso e la giovane cameriera sarà disperata dalla freddezza del suo amato. Così, in un momento di sconforto dove la notte non dorme nemmeno più, andrà dalla sua migliore amica Casilda e gli racconterà tutto quello che è successo con Ignazio e gli dirà anche di sospettare di essere incinta. Casilda così sarà tanto preoccupata che gli consiglierà di andare da Bellita così come vi stavo anticipando e di dirgli tutta la verità. Alodia, infatti, lo farà, andrà da Bellita e gli dirà tutto quello che è accaduto con suo nipote Ignazio. Lei gli darà ragione, ma soprattutto il suo sostegno e reagirà bene alla notizia dicendogli di non preoccuparsi perché farà di tutto per lei e per il suo bambino in quanto considera Alodia come sua figlia. Nel frattempo, ragazzi, però, a scoprire che cosa accadrà a Elodia e Ignazio vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale, attivate la campanellina e se vi va lasciate il mio like di supporto, questo e tanto altro accadrà nelle prossime settimane nella sopopera Una Vita.